Il muraglione si prepara allo sbarco del Giova Beach Party. In queste ore è scattata l'ordinanza di divieto di occupazione della spiaggia libera del Moletto, che ospiterà il 30 luglio la prima delle due tappe del tour da 25.000 spettatori paganti a volta. In attesa che le decine di bilici facciano il loro arrivo in Darsena, i tecnici della produzione, la PRG, hanno avviato le prove di carico per verificare la stabilità del suolo per ospitare grandi palchi. L'ordinanza dell'autorità portuale vede la chiusura al pubblico della spiaggia libera dalla mezzanotte del 17 luglio alle 24 dell'8 agosto. 22 giorni di stop, altrettanti per la seconda tappa del 31 agosto, anche se la partenza è stata morbida per consentire a tutti di prendere le misure. A subire gli effetti peggiori del lungo montaggio è il chiosco delle bevande, che sarà trasferito dal 23 luglio sul viale a mare, e soprattutto lo stabilimento balneare Altromare, dove sorpeggia una certa preoccupazione. La cooperativa che lo gestisce, infatti, sempre dal 23 luglio, dovrà smontare tutte le attrezzature, lasciando solo le tende, per poi rimontare tutto l'8 di agosto, e ripetere la stessa operazione per il secondo concerto, fra le proteste di chi ha pagato un abbonamento stagionale e si ritrova senza l'ombrellone o la tenda. Tutti gli altri bagni della marina dovranno liberare alle prime file degli ombrelloni il giorno dei concerti, per consentire le vie di fuga verso sud, come mostra la planimetria presentata al comune di Viareggio. L'area della Croce Verde resterà la prima uscita, previsto anche l'abbattimento del muro di accesso alla spiaggia libera. Venerdì, intanto, in prefettura Lucca, è attesa il via libera definitivo della commissione di vigilanza.